ciao a tutti gli amici di accesso riservato io sono francesco buonmartini oggi ho il piacere di avere con me ambra marie ciao ambra marie come stai tutto bene grazie tutto bene ottimo beh intanto da dove mi chiami ma io sono a brescia in questo momento a brescia ok io da verona come al solito come sanno gli esplodatori e allora parto subito in quinta questo fine settimana tu sarai venerdì 7 ottobre a sandra di castelnuovo in una manifestazione che si chiama rock and beer non sarai come ambra marie ma con un altro progetto allora io direi partiamo da qui così ci spieghi questa tua incarnazione diciamo dove tra l'altro hai un nome diverso da ambra marie ma semplicemente questo progetto si chiama surrealistic pillow perché quello che portiamo in giro è la musica degli anni 60 70 psichedelica quindi un riferimento ai jefferson airplane era d'obbligo dato che amo particolarmente grace lee che diciamo che questa è la dimensione quella più come dire divertente perché sai a volte dipende anche il luogo in cui ti trovi no la musica che che fai e quindi c'è questo progetto che è un po più così leggero come dire da conviviale dove appunto proponiamo un po la musica degli anni 70 tutta quella che amo quindi appunto da jefferson airplane shocking blue fino ad arrivare appunto a jimmy hendrix i beatles però appunto nella sfera un po più psichedelica della della carriera di tutti ecco psichedelica ma diciamo sempre comunque con un occhio di riguardo al rock mi pare di capire che è il tuo substrato anche nel tuo progetto singolo diciamo personale ma diciamo che in realtà in questi anni allora ovviamente sì chiaramente prendendo in considerazione questi gruppi è chiaro che la il rock è di fondo perché jimmy hendrix se non lo collochiamo nel nella dimensione rock non saprei bene dove dove colloca collocarlo psichedelia è nel nell'utilizzo dei suoni inteso che appunto i beatles hanno avuto varie fasi è la fase che abbiamo pescato dai beatles è sicuramente quella più dedicata un po alla psichedelia come può essere luce in the sky with diamonds quindi con quei suoni più psichedelici che sono sicuramente diversi da da love me do ecco mettiamola così per per far capire un po livello di sound dove siamo andati a pescare per quanto mi riguarda ovviamente il rock fa sempre parte del del mio quotidiano dato che appunto anche conduco un programma su radio freccia electric ladyland che parla di musica rock e di tutte le sue derivazioni invece per quanto mi riguarda personalmente a livello musicale in questo momento la fase in cui sono è quella dedicata di john qualcosa che è un altro progetto ancora perché sì io mi chiamo ambra marie ho fatto la musica col col mio nome con la mia band che si chiamava ambra marie dove sicuramente il sound dei due dischi che abbiamo fatto è verso il rock però negli ultimi negli ultimi tre anni mi sono concentrata su questo progetto che si chiama john qualcosa che sono nient'altro che io quindi insomma vari nomi ma per declinare semplicemente un po la insomma e quindi john qualcosa attualmente sono il mio progetto musicale di riferimento che invece con rock sì sicuramente qualche derivazione ce l'ha però è sicuramente più cantautorato cinematografico ci piace chiamarlo perché va in qualche modo a toccare diciamo suoni un po più un po diversi rispetto a quello che ho fatto con i precedenti dischi legati ad ambra marie anche perché i riferimenti testuali sono molto legati a film a diri poi sono sono dei gemelli quindi di conseguenza in questa testa siamo almeno in 7 8 e quindi ognuno ha il suo nome mettiamola così diciamo che sì ci sono varie varie incarnazioni e già un po di cosa già conoscevo in realtà tra l'altro voi avete suonato anche nel veronese con già un qualcosa sì sì abbiamo fatto un po di late sì 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 ecco e quindi diciamo che era un progetto comunque sì di cui volevo chiederti ma mi hai anticipato quindi la prossima domanda che ti faccio invece riguarda diciamo il tuo trait d'union fra passato e presente quindi un po tutta la tua carriera se guardi indietro alla ragazza che ha partecipato a x factor cosa provi che cosa vedi cosa è cambiato anche ma credo che è un po come quando tutti noi guardiamo le fotografie di quando eravamo giovani ci facciamo un po tenerezza perché magari portavamo un vestito o eravamo in una situazione dove dici guarda guarda cosa stavo facendo guarda com'ero ovviamente guardo ad x factor dato che nel frattempo sono passati quei 13 anni e sono accadute tante cose guardo con con tenerezza quella bimba che in qualche modo voleva provare a fare musica e a farlo come come lavoro ecco quindi sicuramente ci sono delle cose che che non amo di quella di quella esperienza ma come non le ho amati in quel momento perché sono sempre stata abbastanza come dire una persona sicura di quello che voleva così come ci sono invece tanti momenti che ricordo con molto piacere i legami che si sono creati con quelle persone che tuttora sono mie amiche dopo tutti questi anni che abbiamo fatto il programma insieme però allo stesso tempo mi domando che ne so magari senza x factor non avrei fatto tutto quello che ho fatto dopo quindi di conseguenza appunto le varie parte i concerti che insomma sono stati veramente veramente tanti anche le esperienze televisive come su rock tv dove ho intervistato manuel agnelli marta sui tubi calcutta motte insomma tutto lo scenario un po italiano underground che io amo particolarmente tu fai tante cose in tv in radio e anche adesso appunto sei attiva con radio freccia che cosa ti lascia quotidianamente con l'esperienza cosa ti da ma lavorare con radio freccia mi permette di essere innanzitutto sempre aggiornata sul mondo della musica perché comunque bisogna essere sempre in qualche modo sul pezzo che da una parte diciamo non fa parte propriamente del mio carattere nel senso che io vivo sempre un po fuori dal mondo quindi mi interesso delle mie cose della mia sfera della mia bolla però allo stesso tempo questa cosa mi aiuta appunto invece a uscire da questa bolla e quindi di conseguenza confrontarmi con una vasta e ampia scala musicale questa cosa mi piace sempre da un punto di vista proprio di di conoscenza quindi ecco visto che mi piace sapere sono una persona piuttosto curiosa l'altra cosa è che radio freccia mi dà la libertà di attraverso questo piccola rubrica che faccio io appunto sono in onda il venerdì il sabato e la domenica dalle 14 fino alle 17 all'interno di queste tre ore ho una rubrica che si chiama follow the white rabbit dove praticamente appunto il senso è di inseguire la come faceva il bianconiglio un po' la curiosità e si parla di un evento che accade una volta che accade in quel giorno quindi una sorta di on this day quindi da pescando da compleanni o ricorrenze come l'uscita di un disco posso permettermi di scegliere una canzone all'interno di un mio programma che insomma su una radio nazionale non è cosa così scontata e quindi mi prendo delle piccole libertà inserendo all'interno di questi on this day magari delle cose che solitamente su radio nazionali non non si sentono io sono un amante di nick drake amante di tim buckley padre di jeff e quindi di conseguenza a volte mi ritrovo a mettere queste chicche musicali e nel momento in cui le mando ecco c'è quello quell'orgoglio come un po' se fossero tuoi queste canzoni no? certo e quindi questa è una grande una grande soddisfazione sì io penso che anche sentendo anche degli amici appunto che sono amanti della musica comunque che sono ascoltatori proprio sai appassionati quindi il tuo nome torna spesso e molto anche proprio per questo discorso che fai appunto su radio freccia quindi ti confermo che arriva questo tipo di sensazione che colpisce te e comunque tendenzialmente esce ecco arriva anche ad altri sono contenta almeno ecco uno fa le cose le fai per te stesso perché io lo faccio esattamente per me stesso ma con la speranza che appunto non interessi solamente a me quindi sono contenta certo tornando invece all'aspetto prettamente musicale come affronti live? spiego meglio cioè come li vivi diciamo sia prima che durante che dopo? guarda veramente con molta tranquillità probabilmente suono da talmente tanto tempo e ho una comunque una tranquillità con i miei musicisti che sono gli stessi da quando ho 16 anni che sono sempre molto tranquilla sono una persona molto precisa quindi di conseguenza non riesco mai purtroppo a scendere durante il live la parte emozionale dalla parte invece più razionale quindi tendenzialmente mi lascio c'è una parte di me che si lascia molto andare ma c'è l'altra che ha sempre un po' le redini mi piacerebbe ogni tanto che questa persona che tiene le redini se ne andasse un po' da qualche parte però insomma è anche vero che è anche giusto mantenere un focus sulla professionalità di quando si è su un palco ecco ecco io sono sia lo sono anche nella radio non sono nella vita di tutti i giorni sono una persona molto molto precisa che combatte invece con quest'altra che invece è proprio su una nuvola ma come avrai ben capito insomma le contraddizioni fanno parte esattamente del del mio essere quindi ci sono proprio parti del cervello che si scontrano tra di loro per esempio invece l'altra sera mi sono ritrovata su un palcoscenico al teatro sociale di Brescia a reinterpretare la buona novella di De Andrè volevo domandartelo te lo dico anche perché perché ho visto dalla tua pagina facebook una foto dove mostri la buona novella il vinile e dove dici che è stato ereditato in famiglia diciamo quindi vedere quella foto ha fatto bene insomma eh guarda appunto collegandomi a questa cosa dell'emozione come vivo i live mentre di solito sono abbastanza serena l'altra sera ti dirò che prima di salire sul palco per appunto la reinterpretazione della buona novella ero molto 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 emozionata infatti dicevo caspita bra su cioè nel senso trova la serenità che hai solitamente però appunto innanzitutto De Andrè io lo amo moltissimo come dicevi appunto ho reeditato questo vinile della buona novella da mia madre quindi di conseguenza la buona novella è legato a ricordi familiari e quindi di conseguenza ho davvero fatto fatica mentre rifacevano l'avemaria a non piangere sul palco perché mi emoziona tantissimo e poi dall'altra è un altro ricordo perché eh io ho avuto un professore di artistica che durante alle medie durante le sue ore d'artistica lui entrava in classe con questo stereo o la chitarra dipende ci dava la traccia da seguire a livello artistico quindi insomma il disegno che dovevamo fare quel giorno e poi lui nel frattempo ci faceva ascoltare musica o suonava la chitarra e io De Andrè l'avevo scoperto sì con mia madre ma è qua che a tredici anni ho incominciato a scoprire il suo mondo ti porti a casa qualcosa e dici caspita mi interessa da qui appunto il valore immenso che questo prof il Simeone eh dava all'insegnarti qualcosa oltre all'insegnamento insomma scolastico no tant'è che l'altra sera questo mio prof che non vedevo a circa vent'anni ma ci siamo sempre tenuti in contatto è venuto apposta da lui adesso abita a Genova è venuto apposta da Genova per vedere lo spettacolo perché si ricordava perché perché io stessa ho voluto coinvolgerlo in questa cosa dicendo prof vede se non ci fosse stato lei e probabilmente io su questo palco a fare la buona novella non non ci sarei stata quindi anche l'importanza proprio degli insegnanti che da che da subito qua apriremo un discorso veramente infinito però la musica è anche insegnamento e andrebbe fatto da insomma le orecchie andrebbero affinate fin da quando i bambini sono insomma un po' più piccoli ma questo è un discorso immenso che non apriamo in questo momento però l'altra sera quando ho rifatto la buona novella veramente avevo il cuore in gola è stato bellissimo anche perché De Andrè poi lo tratti sempre con molto rispetto con molta reverenza come giusto che sia e quindi avevo questo timore di deludere Faber sicuramente ti stava guardando da lassù guarda io quando devo chiedere qualcosa a qualcuno lo chiedo a Fabrizio De Andrè lui è il mio personale dio anche nelle cose più banali tipo dai Fabri oggi non far piovere per favore che ho delle cose da fare addirittura proprio sostituisce la divinità sì 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 lo scomodo anche per cose così futili della vita quotidiana ma io se devo rivolgermi a qualcuno lo faccio con Fabrizio ma guarda ti capisco perfettamente perché è uno di quegli artisti che ogni volta riesce a farmi venire la pelle d'occa letteralmente per quello che dice e come lo dice banalmente ed è e la buona novella tra l'altro rappresenta comunque un disco appunto sui Vangeli Apocry fino a molto molto importante un po' diciamo a livello culturale italiano secondo me non solo cioè così come Storia di un impiegato sì sì ma perché lui prendeva i dischi erano sempre collegati allo scenario che c'era in quel momento prendi la buona novella era il 69 l'avevano visto come in realtà come una cosa un po' come dire attuale anacronistica in realtà quando in realtà invece era attualissima perché parlava di quest'uomo Gesù rivoluzionario che in nome dei suoi ideali quindi dell'amore andava si è fatto uccidere in nome di un ideale quindi insomma se parliamo delle rivolte giovanili del 69 Gesù è esattamente quella stessa persona quindi non era anzi De Andrè era proprio dentro la storia ed era questo pazzesco di quello che faceva ecco ti sembra che oggi sempre su questo discorso che mi interessa l'attualizzazione di quello che viene cantato a livello artistico quindi in Italia ci sia o sia un po' assente anche magari l'aspetto diciamo dell'impegno da qualche punto di vista l'impegno sociale Guarda se ovviamente ognuno deve fare quello che sa fare quindi per quanto mi riguarda la musica è un mio come dire è un contenitore nel quale io riverso un'estetica personale e una e una sensazione mia personale di come percepisco la vita quindi di conseguenza può essere vista impegnata come non impegnata il mio impegno è nel provare a portare avanti un'estetica che non sia frivola quindi magari non avrà valenza da un punto di vista sociale perché quello di cui parlo non ha a che fare con dei problemi attuali della politica o della società ma sicuramente è una presa di posizione da un punto di vista comunque di impegno artistico che non vuol dire che quello che faccio ha chissà quale valenza storica ma portare avanti un impegno musicale con il valore che bisogna dare all'arte alla musica all'impegno che ci si mette quando quando si fa un disco sicuramente è una presa di posizione inteso che l'arte viene spesso considerata come un qualcosa di ma sì cosa fai il musicista quando in realtà quindi quello che io personalmente mi porto avanti con la mia musica è sicuramente un dare un valore all'arte e spiegandolo anche a volte quando sono in radio di cosa vuol dire fare musica di cosa vuol dire fare musicisti di cosa vuol dire essere all'interno di una società dove sei un musicista quindi questo è il mio impegno è far capire quello che sono io a chi magari non lo sa invece da un punto di vista musicale appunto sono totalmente disimpegnata ma non nel senso che non me ne frega niente nel senso che dal mio dal mio punto di vista artistico non canto il sociale ecco come lo faceva Andrea ma anche perché non ne sarei assolutamente in grado per quanto riguarda la scena attuale se lo è ci sono sicuramente tanti artisti che portano avanti delle battaglie anche attraverso la musica così come invece c'è il totale sfacelo del in altri ambiti insomma è un discorso probabilmente un po' tanto complesso e che probabilmente anche nemmeno saprei affrontare con gli adeguati termini ecco ma io ne dubito comunque comunque anche perché ti sei no ti sei diventerai talmente prolissa e logorroica che ecco non vorrei tediarti ulteriormente però no 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 non mi tedi la mia in realtà la mia domanda avverteva proprio sul fatto che noto come diciamo così le personal struggles come le chiamano in America no abbiano la preponderanza all'interno dei testi rispetto alla trattazione in Italia appunto delle questioni sociali ma in realtà questo deriva anche dal fatto che in Italia comunque i cantautori che abbiamo citato prima appunto di Andrea ma potevamo dirne anche degli altri in realtà in passato delle questioni sociali hanno parlato particolarmente no oltre oltre chiaramente alle questioni amorose alle sensazioni ed emozioni perché comunque c'è anche quello chiaramente dentro il loro discorso ecco